mi sembra una splendida idea però allora dovete ascoltare un altro disco questa musica io non ho visto una musica vedo che continua a peggiorarti la memoria devo ricordarti che questa musica è frutto della mia su archi senza centina e chi farli come farli oh no stress che stress ragazzi allora un po' di volta qui mazza abbiamo la pre-fortuna tutti i centri amore che non sa oh no prima e dopo